Ecco, questa mattina andremo a presentare ufficialmente l'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. È un'associazione a cui valenza è di caratura nazionale, in quanto si occuperà nella valorizzazione e nella conoscenza di tutti questi manufatti che sono in parte operativi e in parte dismessi su tutto il territorio nazionale. Al convegno, nella prestigiosa sede del comune di Revere, sono intervenute autorità che sono soprattutto appassionati dei mulini storici. Introdotti da Gabriele Setti, Deus ex macchina dell'Associazione, il presidente Lugaresi, il vice sindaco di Revere Branchini, il presidente della Proloco Giovannini. Tra gli ospiti il sindaco di Concordia, dottor Marchini, e il vice presidente del Consiglio Comunale di Verona, Fanton. Rilevanti gli interventi incentrati sugli aspetti culturali legati al recupero e alla valorizzazione dei mulini storici. L'Associazione tende a valorizzare e recuperare tutti i mulini storici, non soltanto quelli che operavano sul fiume Po. Alcuni di questi manufatti sono perfettamente funzionanti e di loro proprietari hanno portato la testimonianza circa il valore sociale, oltre che storico, che essi rivestono anche nell'attuale momento. Loreno Confortini ha presentato il sito internet realizzato per conto dell'Associazione, già ricco di notizie e foto, per il quale si attendono altri contributi culturali dagli appassionati italiani. Anna Maria Guccini, autrice, ha spiegato il perché dell'Associazione, attraverso una approfondita ricerca di scritti sull'argomento dei cereali, le macine, fino ai mulini mossi dall'acqua. È stata presentata anche una formella celebrativa, opera dell'artista Mario Manzalini, prima di una serie che annualmente aggiungerà valore a quello già rappresentato dai mulini storici. Ecco, in questa operazione ci siamo attivati come gruppo di appassionati di questa arte e siamo ben felici di avere al nostro fianco la redazione cermidiana che si è dimostrata particolarmente attenta a questi temi culturali.